Prende forma il corso dell'Istituto Tecnico Superiore per l'Innovazione del Sistema Agroalimentare, lanciato dall'omonima Fondazione all'inizio dell'anno scolastico. Un percorso para-universitario di specializzazione biennale. L'obiettivo è ambizioso, garantire ai giovani impegnati nel settore agroalimentare sbocchi lavorativi sicuri, modellati sulle esigenze di un tassello fondamentale per il turismo provinciale. Il settore agroalimentare lo vediamo tutti, penso che sia insieme al turismo il settore più importante. in assoluto. Oltretutto ci si confronta anche col turismo perché sta venendo avanti in maniera molto forte la possibilità di fare del turismo agroalimentare. Praticamente la gente viene, visita, va a sciare, fa le sue passeggiate, i trekking, eccetera, e poi dopo si ferma nei nostri ristoranti a mangiare. Questo è importante, anche perché insieme visitano le città e i paesi più belli che abbiamo. Oggi sono state svelate alcune delle attività che andranno a definire il corso formativo post-diploma coordinato da Confindustria, Lecco e Sondrio e che prenderà il via il prossimo ottobre. Dal nuovo logo realizzato da una studentessa dell'Istituto Superiore Fiocchi di Lecco, agli eminenti progetti che saranno lanciati su un apposito sito, costruito con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Mattei di Sondrio. Tutto questo viene fatto per facilitare le imprese e soprattutto gli studenti dell'ultimo anno affinché capiscano che in provincia di Sondrio c'è sicuramente la soluzione di avere un posto, se si è specializzati e se si è volonterosi. Inoltre, come primo, anche attività importante e sicuramente positiva è la frequentazione della Cibus, che è la mostra agroalimentare internazionale più importante. Porteremo in due fasi 50 alunni dell'ultimo anno, per un totale di 100, a far visita a questo importantissimo evento. Grazie a tutti.